Favara contro la mafia. La manifestazione svoltasi venerdì scorso, che ha visto consegnare onoreficenze ad importanti cariche dello Stato, si è conclusa con un pranzo all'Istituto Alberghiero Ambrosini di Favara, guidato dal professor Giuseppe Salamone. Il banchetto gastronomico ha assunto un significato particolare in quanto alla scuola favarese, dallo scorso 22 maggio, giorno in cui si è svolta la festa della legalità, è stato consegnato lo stendardo della legalità che per un anno affida agli allievi dell'Istituto il compito di ambasciatori dei valori di legalità e trasparenza. Oltre al momento culinario, nella sala della scuola si è voluto omaggiare i presenti anche con la proiezione di un video prodotto dagli stessi studenti dal titolo La forza delle parole delle immagini, filmato che ha proposto alcuni brani di discorsi di personalità illustri come ad esempio Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Carlo Alberto dalla Chiesa. Infine una copia del suggestivo video è stata poi consegnata dai due magistrati Messineo e Teresi e dai colonnelli di Giulio e Raffo e dal questore di Fazio.